Musica Beh, loro hanno parlato non solo della facoltà in sé per sé dal punto di vista accademico, hanno parlato appunto di quali sono le difficoltà personali e professionali a cui un novizio può andare incontro. Ho trovato che le loro parole siano state particolarmente esaustive e hanno spiegato veramente bene tutti i contenuti del corso. Mi è piaciuta in generale la presentazione, soprattutto è stato molto dettagliato nel parlare delle materie che si affrontano nel corso di laurea e anche delle prospettive. Si è vista che comunque anche chi esce da qui riesce veramente a trovare un posto nel mondo del lavoro, quindi traduzione anche di libri importanti, comunque una carriera promettente, insomma, perché poi lei vuole venire qua. Mi ha colpito il fatto che cercano di metterti in comunicazione con il mondo del lavoro subito, quindi partecipando a progetti, non progetti che siano magari simulazioni del mondo del lavoro, perché ci sono dei contatti con effettivamente delle fondazioni, piuttosto che mostre, teatri, eccetera. Poter fare questa esperienza già in magistrale è fantastico. La laurea magistrale copre diversi ambiti, quindi passi dal digital al brand al retail e poi anche la competenza dei professori, che sembrano tutte persone comunque qualificate sia nel mondo accademico ma anche nel mondo del lavoro. Il punto di forza è proprio creare delle persone che sappiano lavorare, piuttosto che delle persone che magari studiano tanti anni, però nel luogo di lavoro non sanno un po' come muoversi. La cosa che mi ha ancora più convinto oggi è stata quella di trovare poi un'organizzazione molto buona e degli strumenti all'avanguardia e molto adeguati per quello che poi si vorrà fare. Soprattutto al lato teorico si aggiunge quello pratico, con stage e workshop, quindi questo lo trovo assolutamente unico, almeno nell'università italiana. Oggi poi hanno presentato tre ragazzi, quattro ragazzi che si sono specializzati più nel corso di cross media e televisione, che è quello che interessa a me personalmente ed è stato interessante perché sono stati molto esattivi nella presentazione e nella spiegazione di come lavorerai. Penso che sia un corso molto appunto transdisciplinario, come diceva, quindi collega molte cose, l'economia, il diritto, la politica e quindi penso che sia una buona base per chi vuole lavorare nelle istituzioni europee, per esempio. Ci ha fatto vedere proprio la realtà di come poi sono le cose quando uno poi va a scegliere anche una magistrale.